Un altro ribaltamento, rovesciamento, che è quello legato al baco del millennio. Cos'è il baco del millennio? Voi siete tutti troppo giovani per ricordarvelo. Il baco del millennio è una psicosi che agita l'Occidente e il mondo intero al passaggio dal 1999 al 2000. Si teme che tutti i computer del mondo, tutti i sistemi informatici vadano in tilt perché non sono stati programmati per passare dal 99 allo 00, le ultime due cifre. Era, come spesso accade, un'apocalisse infondata. Però il lato buono di quell'allarmismo fu che tutte le imprese del mondo si misero a investire in aggiornamento del software informatico. Io all'epoca abitavo in California, non avevamo abbastanza ingegneri informatici neanche nella Silicon Valley californiana dove li trovammo in India. Voglio tornare per un attimo indietro a quel titolo, l'odore dell'India, che era il titolo di un libro di Pasolini. Pasolini aveva viaggiato in India negli anni 60, l'aveva descritta come la nazione senza speranza. Perché effettivamente negli anni 60 sembrava bloccata nel sottosviluppo e un giovane indiano che volesse costruirsi un futuro doveva partire, lasciare il paese, emigrare. Ecco, l'India della riscoperta magica, affascinante, positiva al passaggio del millennio è tutto il contrario. Diventa il paese della speranza, diventa il paese del futuro. Una nazione giovanissima, con una forza lavoro in gran parte anglofona, beneficio del colonialismo inglese, quindi facile da integrare nella globalizzazione e inoltre un regime liberal democratico, quindi da opporre all'autoritarismo della Cina.